Un maestro d'armi Creature mostruose Un solo modo per riuscire Combate Ne rimarrà soltanto un Vistrita zombie adesso Il Vistrita zombie Non perdetevi il sequel Jack mi è appena stato riferito che hanno visto una creatura con un frullatore in testa nei pressi di Londra Allora torno subito a caccia Il Vistrita zombie allo Allora torno subito a caccia